L'approvazione della finanziaria regionale da 8,2 miliardi di euro è l'ultimo grande appuntamento che attende il Consiglio regionale, ormai entrato nei mesi conclusivi della legislatura. Ritirata la legge urbanistica, vista l'impossibilità di approvarla in aula, rinviata a Sinedia la Commissione Governo del Territorio, dal 24 ottobre l'Assemblea Sarda sarà impegnata nella sessione di bilancio che dovrà esaminare ed eventualmente emendare il documento finanziario varato dall'aggiunta guidata dal Presidente Francesco Pigliaro. A lato della presentazione il governatore e l'assessore al bilancio Raffaele Paci hanno parlato di manovra in cui inclusione e sviluppo sono le due parole chiave. Tra le voci indicate come esemplificative di questa volontà programmatica i 382 milioni destinati alle politiche sociali e alla famiglia, 196 milioni a istruzione e diritto allo studio, 99 a cultura e sport, 379 milioni sono destinati a agricoltura e pesca, 671 a trasporto e mobilità, sono invece 3,7 miliardi destinati alla sanità. Dall'opposizione centrodestra la finanziaria regionale è stata definita elettorale perché non incide sulla crisi e non crea sviluppo. Caustico il giudizio del Movimento 5 Stelle. Il candidato governatore Mario Puddu ha scritto nel suo blog L'ultima finanziaria della giunta a Piglieru potrebbe essere definita in tanti modi, convenzionale, poco incisiva, senza un'idea innovativa della Sardegna, una finanziaria senza anima, in realtà c'è un elemento positivo ed è appunto che sarà l'ultima, perché la prossima sarà scritta da un'amministrazione diversa e che, ci auguriamo, possa essere 5 Stelle. Quella di Piglieru e pace è soprattutto una finanziaria elettorale, conclude Puddu, lasciando al Consiglio la disponibilità di 22 milioni di euro per finanziare nuove leggi. Il governatore e l'assessore provano infatti a ingraziarsi in estremi e sui territori e amministrazioni abbandonate da 4 anni al loro destino.